Un convegno che intende fornire nuove informazioni ed aggiornamenti a cardiologi italiani e stranieri sul ruolo crescente dell'ecocardiografia nelle decisioni cliniche. Ecocardiografia Monaldi 2014 è il convegno presieduto dal professor Raffaele Calabro, mentre la segreteria scientifica è stata affidata al dottor Pio Caso. L'ecocardiografia è diventata una delle tecniche diagnostiche di maggior utilizzo nella pratica clinica quotidiana. Molte decisioni cliniche, sia di ordine terapeutico-farmacologico, come decidere il tipo di terapia da somministrare, sia di interesse chirurgico, come decidere se operare di riparazione o sostituzione una valvola cardiaca, possono essere prese grazie alle informazioni di ordine anatomico e fisiopatologiche ricavate dall'ecocardiografia. Oggi l'89% dei pazienti ricoverati in cardiologia per scompenso cardiaco e il 60% di quelli ricoverati in medicina è sottoposto da esamico cardiografico per definire l'orientamento diagnostico e terapeutico. Ascoltiamo il professor Raffaele Calabro. Non si può pensare oggi che la medicina si possa fare con tecnologie obsolete. La riorganizzazione del sistema sanitario in Campania deve prevedere, sta prevedendo e punterà a prevedere sempre di più che ci siano punti di eccellenza dove l'alta tecnologia diventa l'elemento di base per lavorare bene. Nel nuovo patto della salute, nel nuovo accordo anche della legge di stabilità, sono previsti anche che i finanziamenti risparmiati in una regione rimangono all'interno della regione e vanno indirizzati essenzialmente a migliorare il parco tecnologico e la realtà strutturale della sanità.